Fra tante brutte notizie c'è una bella notizia che riguarda la riapertura di tutte le scuole cittadine. Sì, abbiamo riaperto tutte le scuole ma non perché siamo stati graziati dal Signore, ma perché durante tutta la settimana abbiamo fatto in modo che vi fossero controlli continui. Questo non esclude che si possano verificare dei problemi, perché da un mese le scuole comunque sono chiuse, nonostante io abbia fatto accendere gli scaldamenti per tempo, quindi già dalla scorsa settimana, questo non implica che non ci possa essere l'evento straordinario, l'imprevisto che possa mandare in blocco le caldaie. Laddove è successo e dove c'erano delle solerti, evidentemente operatrici, è stata immediatamente allertata la ditta e sono state immediatamente riavviate le caldaie. Non mi risulta al momento che ci siano scuole che sono state al freddo o abbiano riaperto al freddo. Quindi questa è la cosa più importante. Poi è evidente, dobbiamo farla conto anche dei danni sulle strutture comunali, quindi anche sulle scuole. E non va dimenticato che il blackout ha colpito anche le scuole, quindi anche quelle caldaie che non è stato possibile riavviare prima perché erano prive di energia elettrica.